Tra le tante notti colorate ce n'è una che spicca di più per un colore sgargiante, la notte verde, e quindi voi siete in ansia per questo avvenimento che anche quest'anno si ripropone. Sì, la settima edizione è a Montesecco di Pergola, che amiamo definire come uno dei più bei balconi alle pendici del Catria sul mare Adriatico. Davvero si vede il mare dalla costa riminese fino ad arrivare al Monte Conero. Davvero molto suggestivo per una serata, quella di martedì 16, tutta dedicata al divertimento, al relax, ma anche allo sport, perché partiamo dalla mattina con la ciclo polverosa alla scoperta dei boschi e delle strade più belle e suggestive attorno al castello di Montesecco di Pergola, che era uno dei comuni che poi si è unito con gli altri secolli per fortificare Pergola, che poi li ha assorbiti. Ma tanto divertimento perché discoteca in piazza nella piazza del castello, orchestra spettacolo nella piazza della torre e tanta enogastronomia, soprattutto di qualità. Uniamo i prodotti tipici di alta qualità della nostra città, a partire dal Pergola Doc, che è una delle più giovani doc marchigiane relative al vino, di cui questa terra è ricca, fino ad arrivare al pesce dell'Adriatico, per cui vi sarà una restaurazione anche dedicata al pesce del nostro mare. Sappiamo unire la costa all'entroterra.